Mi piace prendere spunto dal testo della canzone per inventarmi qualcosa da affinare alla canzone Iniziamo dopo, deve essere tutta la sua presa Il brano è un brano di Nate James, si chiama The Message Musica grazie a tutti Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti Grazie a tutti